Uno spettacolo che si commenta da solo. La sintesi di quanto è accaduto dove discorso in Consiglio Comunale ad Andrea la offre il consigliere regionale del Partito Democratico Sabino Zinni. Critico e non poteva essere altrimenti, con la maggioranza di centrodestra e le sue tensioni, tutte interne, riversate però nell'ambito istituzionale. Il riferimento è prima alla sfiducia del Presidente del Consiglio Comunale Laura Di Pilato e in seconda battuta alla mancata elezione del nuovo Presidente nella seduta di giovedì scorso. Quella dove a presiedere l'Assemblea con tutte le tensioni del caso si sono succeduti tre consiglieri anziani sino all'approvazione del bilancio di previsione con la sola maggioranza rimasta in aula. E proprio quel passaggio, senza le forze d'opposizione, diventa un ulteriore atto d'accusa da parte del consigliere regionale Zinni. Revocano il Presidente e poi non riescono a mettersi d'accordo su chi deve essere il Presidente. E per timore di non trovare la quadra su questo, fanno andare avanti un bilancio che è un atto importante, se non l'atto fondamentale di una città, senza la partecipazione di delle opposizioni che vengono apposta messe in condizioni di dover andare via. Credo che siamo di fronte a uno spettacolo che si commenta da solo. Ora che loro vogliono trovare giustificazioni, io credo che giustificazioni a questa situazione non ce ne siano, faccio appello ancora una volta a persone come il Sindaco, come il Consigliere regionale Marmo, che hanno esperienza politica e saggezza, perché pongano fine a questa manfrina, perché con questa manfrina la città va a finire peggio di come già è e certamente non sta messa bene.